Buongiorno a tutti, sono Gianluca Esaria, rappresento la terza generazione di un'azienda familiare napoletana di abbigliamento maschile. L'azienda è nata nel 1957 fondata dal nonno in un piccolo paesino vicino a Napoli che si chiama Casalnuovo, dove oggi l'azienda è ancora presente lì. La scelta di Casalnuovo fu abbastanza strategica perché Casalnuovo negli anni 50 era un distretto sartoriale, 14 mila abitanti abitavano lì e circa 7 mila erano sarti. Il nostro uomo è un uomo che lavora tanto, è un uomo vero, è un uomo che non ha problemi ad esprimere i propri sentimenti, per cui se deve piangere perché la fidanzata l'ha lasciato, non ha problemi a piangere in pubblico. Ed è un uomo che però nonostante lavori tanto, viaggi tanto, trova sempre il tempo per i suoi hobby e per la sua famiglia. Famiglia che nel nostro caso è una famiglia molto allargata, le collaborazioni con le persone che lavorano con noi sono sempre molto lunghe e quindi queste persone rientrano proprio nella nostra famiglia, quindi è un team molto allargato, affiatato, che lavora tantissimo ma che trova anche il tempo poi per kazan luca, ma stai qua perché tu? Hello! Come stai? Il russia, siamo in Russia. Ma sai che c'è anche un amico nostro? Marco! E sta qua Marco vieni Ciao Gianluca Come stai? Tu vieni Ok fantastico bellissimo Sei anche tu qua Anch'io A camera Stasera al Goomb E adesso con GQ Fantastici stiamo divertendo tantissimo Bellissimo tutto eccezionale Ci vediamo più tardi Ciao GQ Ciao ciao ciao